Ciao! Come stai? Molto bene! Benvenuti a Roma! Posso aiutarla? Ho una prenotazione. Posso avere il tuo nome? Ho dimenticato il mio nome. Avete una camera libera? Sì, ho una camera singola libera. La prenderò. Ecco la chiave. Che piano si trova la stanza? Il quinto piano. C'è un ascensore? Sì, proprio dietro di te. È lontana la spiaggia? Cinque minuti a piedi. Come posso arrivare? Passa attraverso quelle porte. Quanto costa? 50 euro. Questo è troppo costoso. Ne ho uno più conveniente. La sabbia è calda. Brucia i miei piedi. Corriamo. Aie! Ciao! 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 Il mio nome è Thomas. Piacere di incontrarmi con voi. Il piacere è mio. Questo è stato un grande giorno. Mi sono davvero divertito. Domani sarà divertente. Andiamo a dormire. Piove. Quando si fermerà? Questo pomeriggio. Facciamo un pisolino. Io amo la pioggia. Ti amo. Ti amo anch'io. Mi vuoi sposare? Andiamo fuori a cena. Dove? A un ristorante. Quale ristorante? Tu sei divertente. Sei dolce. Prendiamo qualcosa da bere. Con piacere. Fa molto caldo. Vuoi fare il bagno? No, sediamoci in ombra. Buona idea. Questo ristorante è occupato. Dobbiamo aspettare per un tavolo. Non ci vorrà molto. Spero di no. Cosa ti piace mangiare? Una pizza. Che tipo di pizza? Con le verdure. Vorrei noleggiare una macchina. piccola o grande? Piccola o grande? Piccola, per favore. Per quanto tempo? A che ora è la colazione? Dalle otto alle dieci. prima porta alla tua sinistra. A che ora chiudete? Alle dieci. è tardi. È tardi. È perfetto. Torneremo ancora qui. Lo spero. È stato delizioso. Il dessert era delizioso. pericoloso. Avete la chiave? È in tasca. Pensavo di averla persa. È al sicuro. guidare più velocemente. No, questo è pericoloso. Perderemo il nostro treno. Non saremo in ritardo. ti prego di rallentare. Non mi sento bene. Ci siamo quasi. Sto per stare male. Ho fame. o sete. Fermiamoci a mangiare. In una mezz'ora. Quanto costa? 50 euro. Ne prenderò due, per favore. Sono 100 euro. Dove dovremmo andare? Andiamo a sud. Dobbiamo prendere il treno? No. Cerchiamo di noleggiare una macchina. Com'è bello! Come te! Mi hai confuso. Mi fa piacere. Facciamo un giro in barca. Ce n'è una a mezzogiorno. Io comprerò i biglietti. Io comprerò il pranzo. L'acqua è così blu. Il cielo è blu. Tutto è blu. È salato. Restiamo qui per sempre. Vorrei poter rimanere. Devi andartene. Parto in una settimana. Ci vediamo tra sei mesi. È troppo lungo. Ci vediamo tra sei settimane. È meglio. Ho della sabbia nelle mie scarpe. Svuotale. L'ho già fatto. Lavati le scarpe. Ho bisogno di vestiti nuovi. Perché? Questi sono troppo caldi. Sembrano belli. Vuoi il dessert? Solo il conto, per favore. È possibile pagare alla cassa. Grazie. Dov'è il bagno? Laggiù. Giù per le scale? È dietro l'angolo. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Vuoi la colazione? Cosa ti piace mangiare? Uova. Cosa ti piacerebbe bere? Succo d'arancia. Che ora è? Quasi ora di pranzo. Bene. Hai fame? Tu sei una brava persona. Grazie. Anche lei è una brava persona. Siamo una bella coppia. L'anno prossimo sarà migliore. Lo spero. Abbiate fede. Sarò coraggioso. Conoscete la strada? Mi ricordo la strada. Hai una buona memoria. ho un grande cervello. Che bella giornata. Sono d'accordo. Andiamo a fare una passeggiata? è una buona giornata per una passeggiata. Che cos'è quella cosa? Questa è una macchina. Sembra una barca. È una strana barca. che tipo di uomo sei? Io sono un uomo stolto. Che tipo di uomo sarai? sarò un uomo più anziano. Il mondo sta cambiando. Tutto cambia. Io non cambio. posso vederlo. La vita è bella. La vita è troppo breve. Vorrei che fosse più lunga. Dormi di meno. Prendi la mia mano. Ho paura. Tieni la mia mano. Mi sento meglio ora. Mi piace questa parte. Sì, è la parte migliore. È così eccitante. Tenere la mia mano. Io voglio un altro figlio. Ne hai tre. Ne voglio di più. tre è abbastanza. Mi fanno male gli occhi. Il sole è forte. È il sale. Lava gli occhi. Guardi quella donna. quale? Lei sta camminando per la strada. Aiutala. Riesci a trovare un posto? Sto cercando. Ce n'è uno. Buon lavoro. Ci vorrà una settimana. È troppo. È il meglio che posso fare. Andrò da qualche altra parte. Qual è il tuo punto? C'è troppo governo. Siete interessante. Ecco il mio numero di telefono. che grande gruppo. Questo è il problema. Ci sono troppe persone. Andiamo da qualche altra parte. Questa è una buona birra. Beviamone qualcun'altra. Avete abbastanza soldi? userò la mia carta di credito. Che cosa ha detto? Il negozio apre alle due in punto. Vi aspettiamo. Non aspetteremo a lungo. Dove dovremmo andare? Abbiamo bisogno di prendere l'autobus. C'è una mappa. Riesci a vedere la nostra città? Quando verrai? Controllerò il programma. Vuoi guidare? Forse. Riesci a trovare un taxi? Non riesco a vederne uno. Chiediamo a qualcuno. Questo è troppo impegnativo. Sono stanco. È stata una lunga giornata. Voglio dormire. Potrete dormire presto. Puoi chiamarmi domani? Naturalmente. Aspetto tue notizie. Non vedo l'ora di chiamarti. Ho comprato una macchina nuova. È la prima? Spero che sarà la mia ultima. Durerà molto tempo. Lei è una grande cantante. Ero annoiato. Vorrei poter cantare. Vorrei che fossimo a casa. Possiedo un business. Buon per te. Non è grande. Piccolo è meglio. Vai nella direzione opposta. Sulla vecchia strada? Gira a destra al cartello. Al grande albero? Quella montagna è alta. È molto grande. Dove vivo è diverso. Le montagne sono piccole? Ho mangiato un pasto abbondante. Cosa farai dopo? Andrò a dormire. Starò sveglio. Questo vino è molto giovane. Si tratta di una famosa cantina. Ho un paio di bottiglie. Beviamole tutte. Non si può bere in pubblico. E' illegale? Sì, la polizia verrà. E' un peccato. Si può aprire la porta? E' troppo pesante. Lascia che ti aiuti. Sei molto gentile. Avete latte fresco? Ne vuoi un po'? Sì, per favore. Ecco qui. È libero? Dove posso portarla? All'aeroporto, per favore. Subito, signore. Vuoi venire con me? Non posso venire con te. Forse domani. Per favore, mi chiami domani. Di dove sei? Vengo dal Canada. Questo è un bel paese. Il vostro paese è più bello. Di dove sei? Vengo dall'Austria. Quanti anni hai? Ho venticinque anni. Questa sedia è confortevole. Ti stai addormentando? Mi addormento velocemente. Andiamo a letto. Per favore, mi segua. È lontano. Un chilometro. Arriveremo lì presto. Siamo di fretta. Siamo disorganizzati. Dobbiamo pianificare meglio. La prossima volta. Quella macchina è veloce. Questa è una macchina da corsa. Mi piace il colore. Mi piace la velocità. Dove si trova? È vicino all'hotel. Lo troverai? Ci vorranno un paio di minuti. Ho dimenticato la protezione solare. Ci bruceremo. Ci siederemo all'ombra. Il problema è stato risolto. Sei uno studente? Sì, studio affari. Questo è interessante. Mi piacciono i soldi. La neve è profonda. Il sole splende. Andiamo a sciare. Sarà un grande giorno. Sono così felice. Sono felice che tu sia felice. Mi sto divertendo. Sono contento che tu mi sia venuto a visitare. Andiamo. Voglio rimanere. Ci vediamo a casa. A più tardi. Restiamo. Voglio andarmene. Va bene, andremo. È molto rumoroso. Sediamoci. Siete stanchi? I piedi mi fanno male. Riposiamoci. È molto tranquillo qui. Io amo il paese. Mi piace di più la città. La città ha un cattivo odore. L'aria è fredda. Il vento è forte. Le nubi sono scure. Sta arrivando una tempesta. Ti piace il gelato? Mi piace di più una torta. Prendiamoli entrambi. Questa è una grande idea. La mia famiglia è grande. Avete una grande casa? Abbiamo una piccola casa. Deve essere affollata. Si prega di mettere il cappotto nell'armadio. Non riesco ad aprire la porta. Gira la manopola. Si è bloccato. Quell'edificio è vecchio. Si tratta di un castello. I muri sono spessi. È per la difesa. È sicuro? Non sembra solido. Cerchiamo di non camminare su di essa. Hai paura? Quel cane è cattivo. Abbaia molto. Mi chiedo se morda? Non voglio saperlo. È fantastico! Non è così bello. Penso che sia fantastico. Hai cattivo gusto. La mia mano è fredda. Permettetemi di stringerla. ora è calda. Ho il sangue caldo. Lo spettacolo è finito. È stato breve. guardiamone un altro. Sì, abbiamo tempo. Mi piace ridere. Amo sorridere. Vi dirò una barzelletta. Sto ascoltando. Questa è la fine. è stato divertente. Grazie per l'ascolto. È stato un piacere. Ciao. Come stai? Molto bene. Benvenuti a Roma. Posso aiutarla? Ho una prenotazione. Posso avere il tuo nome? Ho dimenticato il mio nome. Avete una camera libera? Sì, ho una camera singola libera. La prenderò. Ecco la chiave. Che piano si trova la stanza? Il quinto piano. C'è un ascensore? Sì, proprio dietro di te. È lontana la spiaggia? Cinque minuti a piedi. Come posso arrivare? Passa attraverso quelle porte. Quanto costa? 50 euro. Questo è troppo costoso. Ne ho uno più conveniente. la sabbia è calda. Brucia i miei piedi. Corriamo. Aie! Ciao! Ciao! Il mio nome è Thomas. Piacere di incontrarmi con voi. Il piacere è mio. Questo è stato un grande giorno. Mi sono davvero divertito. Domani sarà divertente. Andiamo a dormire. Piove. Quando si fermerà? Questo pomeriggio. facciamo un pisolino. Io amo la pioggia. Ti amo. Ti amo anch'io. Mi vuoi sposare? Andiamo fuori a cena. Dove? a un ristorante. A un ristorante. Quale ristorante? Tu sei divertente. Sei dolce. Prendiamo qualcosa da bere. Con piacere. fa molto caldo. Vuoi fare il bagno? No. Sediamoci in ombra. Buona idea! questo ristorante. Questo ristorante è occupato. Dobbiamo aspettare per un tavolo. Non ci vorrà molto. Spero di no. cosa ti piace mangiare? Una pizza. Che tipo di pizza? con le verdure. Con le verdure. Vorrei noleggiare una macchina. piccola o grande? piccola o grande? piccola, per favore. piccola o grande? Per quanto tempo? A che ora è la colazione? dalle otto alle dieci. prima porta alla tua sinistra. a che ora chiudete? alle dieci. è tardi. è perfetto. torneremo ancora qui. lo spero. è stato delizioso. il dessert era delizioso. avete la chiave? è in tasca. pensavo di averla persa. è al sicuro. guidare più velocemente. no, questo è pericoloso. perderemo il nostro treno. non saremo in ritardo. ti prego di rallentare. non mi sento bene. ci siamo quasi. sto per stare male. ho fame. ho sete. fermiamoci a mangiare. in una mezz'ora. in una mezz'ora. quanto costa? cinquanta euro. ne prenderò due, per favore. sono cento euro. dove dovremmo andare? andiamo a sud. dobbiamo prendere il treno? no, cerchiamo di noleggiare una macchina. com'è bello! come te! mi hai confuso. mi fa piacere. facciamo un giro in barca. ce n'è una a mezzogiorno. io comprerò i biglietti. io comprerò il pranzo. l'acqua è così blu. il cielo è blu. tutto è blu. è salato. restiamo qui per sempre. vorrei poter rimanere. devi andartene. parto in una settimana. ci vediamo tra sei mesi. è troppo lungo. ci vediamo tra sei settimane. è meglio. ho della sabbia nelle mie scarpe. svuotale. l'ho già fatto. lavati le scarpe. ho bisogno di vestiti nuovi. perché? questi sono troppo caldi. sembrano belli. vuoi il dessert? solo il conto, per favore. è possibile pagare alla cassa. grazie. dov'è il bagno? laggiù. giù per le scale? e dietro l'angolo. buongiorno. come stai? bene, grazie. vuoi la colazione? cosa ti piace mangiare? uova. succo d'arancia. cosa ti piacerebbe bere? succo d'arancia. che ora è? quasi ora di pranzo. bene. hai fame? tu sei una brava persona. grazie. anche lei è una brava persona. siamo una bella coppia. l'anno prossimo sarà migliore. lo spero. abbiate fede. sarò coraggioso. conoscete la strada? mi ricordo la strada. hai una buona memoria. ho un grande cervello. che bella giornata! sono d'accordo. andiamo a fare una passeggiata? è una buona giornata per una passeggiata. che cos'è quella cosa? questa è una macchina. sembra una barca. è una strana barca. che tipo di uomo sei? io sono un uomo stolto. che tipo di uomo sarai? sarò un uomo più anziano. il mondo sta cambiando. tutto cambia. io non cambio. posso vederlo. la vita è bella. la vita è troppo breve. vorrei che fosse più lunga. dormi di meno. prendi la mia mano. ho paura. tieni la mia mano. mi sento meglio ora. mi piace questa parte. sì, è la parte migliore. è così eccitante. tenere la mia mano. io voglio un altro figlio. ne hai tre. ne voglio di più. tre è abbastanza. mi fanno male gli occhi. il sole è forte. è il sale. lava gli occhi. guardi quella donna. quale? lei sta camminando per la strada. aiutala. riesci a trovare un posto? sto cercando. ce n'è uno. buon lavoro. ci vorrà una settimana. è troppo. è il meglio che posso fare. andrò da qualche altra parte. qual è il tuo punto? c'è troppo governo. siete interessante. ecco il mio numero di telefono. che grande gruppo! questo è il problema. ci sono troppe persone. andiamo da qualche altra parte. questa è una buona birra. beviamone qualcun'altra. avete abbastanza soldi? che cosa ha detto? il negozio apre alle due in punto. vi aspettiamo. non aspetteremo a lungo. dove dovremmo andare? abbiamo bisogno di prendere l'autobus. c'è una mappa. riesci a vedere la nostra città? quando verrai? controllerò il programma. vuoi guidare? forse. riesci a trovare un taxi? non riesco a vederne uno. chiediamo a qualcuno. questo è troppo impegnativo. sono stanco. è stata una lunga giornata. voglio dormire. potrete dormire presto. puoi chiamarmi domani? naturalmente. aspetto tue notizie. non vedo l'ora di chiamarti. ho comprato una macchina nuova. è la prima? spero che sarà la mia ultima. durerà molto tempo. lei è una grande cantante. ero annoiato. vorrei poter cantare. vorrei che fossimo a casa. possiedo un business. buon per te. non è grande. piccolo è meglio. vai nella direzione opposta. sulla vecchia strada? gira a destra al cartello. al grande albero? quella montagna è alta. è molto grande. dove vivo è diverso. le montagne sono piccole? ho mangiato un pasto abbondante. cosa farai dopo? andrò a dormire. starò sveglio. questo vino è molto giovane. si tratta di una famosa cantina. ho un paio di bottiglie. beviamole tutte. non si può bere in pubblico. è illegale? sì, la polizia verrà. è un peccato. si può aprire la porta? è troppo pesante. lascia che ti aiuti. sei molto gentile. avete latte fresco? ne vuoi un po'? sì, per favore. ecco qui. è libero? dove posso portarla? all'aeroporto, per favore. subito, signore. vuoi venire con me? non posso venire con te. forse domani. per favore, mi chiami domani. di dove sei? vengo dal Canada. questo è un bel paese. il vostro paese è più bello. di dove sei? vengo dall'Austria. quanti anni hai? ho venticinque anni. questa sedia è confortevole. ti stai addormentando? mi addormento velocemente. andiamo a letto. per favore, mi segua. è lontano. un chilometro. arriveremo lì presto. siamo di fretta. siamo disorganizzati. dobbiamo pianificare meglio. la prossima volta. quella macchina è veloce. questa è una macchina da corsa. mi piace il colore. mi piace la velocità. dove si trova? è vicino all'hotel. lo troverai? ci vorranno un paio di minuti. ho dimenticato la protezione solare. ci brucieremo. ci siederemo all'ombra. il problema è stato risolto. sei uno studente? sì, studio affari. questo è interessante. mi piacciono i soldi. la neve è profonda. il sole splende. andiamo a sciare. sarà un grande giorno. sono così felice. sono felice che tu sia felice. mi sto divertendo. sono contento che tu mi sia venuto a visitare. andiamo. voglio rimanere. ci vediamo a casa. a più tardi. restiamo. voglio andarmene. va bene. andremo. è molto rumoroso. sediamoci. siete stanchi? i piedi mi fanno male. riposiamoci. è molto tranquillo qui. io amo il paese. mi piace di più la città. la città ha un cattivo odore. l'aria è fredda. il vento è forte. le nubi sono scure. sta arrivando una tempesta. ti piace il gelato? mi piace di più una torta. prendiamoli entrambi. questa è una grande idea. la mia famiglia è grande. avete una grande casa? abbiamo una piccola casa. deve essere affollata. si prega di mettere il cappotto nell'armadio. non riesco ad aprire la porta. si è bloccato. quell'edificio è vecchio. si tratta di un castello. i muri sono spessi. è per la difesa. è sicuro? non sembra solido. cerchiamo di non camminare su di essa. hai paura? quel cane è cattivo. abbaia molto. mi chiedo se morda? non voglio saperlo. è fantastico. non è così bello. penso che sia fantastico. hai cattivo gusto. la mia mano è fredda. permettetemi di stringerla. ora è calda. ho il sangue caldo. lo spettacolo è finito. è stato breve. guardiamone un altro. sì, abbiamo tempo. mi piace ridere. amo sorridere. vi dirò una barzelletta. sto ascoltando. questa è la fine. è stato divertente. grazie per l'ascolto. è stato un piacere. ciao. come stai? molto bene. benvenuti a Roma. posso aiutarla? ho una prenotazione. posso avere il tuo nome? ho dimenticato il mio nome. avete una camera libera? sì, ho una camera singola libera. la prenderò. ecco la chiave. che piano si trova la stanza? il quinto piano. c'è un ascensore? sì, proprio dietro di te. è lontana la spiaggia? cinque minuti a piedi. come posso arrivare? passa attraverso quelle porte. quanto costa? cinquanta euro. questo è troppo costoso. ne ho uno più conveniente. la sabbia è calda. brucia i miei piedi. corriamo. aie. ciao. ciao. il mio nome è Thomas. piacere di incontrarmi con voi. il piacere è mio. questo è stato un grande giorno. mi sono davvero divertito. domani sarà divertente. andiamo a dormire. piove. quando si fermerà? questo pomeriggio. facciamo un pisolino. io amo la pioggia. ti amo. ti amo anch'io. mi vuoi sposare? andiamo fuori a cena. dove? a un ristorante. quale ristorante? tu sei divertente. sei dolce. prendiamo qualcosa da bere. con piacere. fa molto caldo. vuoi fare il bagno? no, sediamoci in ombra. buona idea. questo ristorante è occupato. dobbiamo aspettare per un tavolo. non ci vorrà molto. spero di no. cosa ti piace mangiare? una pizza. che tipo di pizza? con le verdure. vorrei noleggiare una macchina. piccola o grande? piccola o grande? piccola, per favore. per quanto tempo? a che ora è la colazione? dalle otto alle dieci. dove viene servita la colazione? prima porta alla tua sinistra. a che ora chiudete? alle dieci. è tardi. è tardi. è perfetto. torneremo ancora qui. lo spero. è stato delizioso. il dessert era delizioso. avete la chiave? è in tasca. pensavo di averla persa. è al sicuro. guidare più velocemente. no, questo è pericoloso. perderemo il nostro treno. non saremo in ritardo. ti prego di rallentare. non mi sento bene. ci siamo quasi. sto per stare male. ho fame. ho sete. fermiamoci a mangiare. in una mezz'ora. quanto costa? cinquanta euro. ne prenderò due per favore. sono cento euro. dove dovremmo andare? andiamo a sud. dobbiamo prendere il treno? no, cerchiamo di noleggiare una macchina. com'è bello! come te! mi hai confuso. mi fa piacere. facciamo un giro in barca. ce n'è una a mezzogiorno. io comprerò i biglietti. io comprerò il pranzo. l'acqua è così blu. il cielo è blu. tutto è blu. è salato. restiamo qui per sempre. vorrei poter rimanere. devi andartene. parto in una settimana. ci vediamo tra sei mesi. è troppo lungo. ci vediamo tra sei settimane. è meglio. ho della sabbia nelle mie scarpe. svuotale. l'ho già fatto. lavati le scarpe. ho bisogno di vestiti nuovi. perché? questi sono troppo caldi. sembrano belli. vuoi il dessert? solo il conto, per favore. è possibile pagare alla cassa? grazie. dov'è il bagno? laggiù. giù per le scale? è dietro l'angolo. buongiorno. buongiorno. come stai? bene, grazie. vuoi la colazione? cosa ti piace mangiare? uova. cosa ti piacerebbe bere? succo d'arancia. che ora è? quasi ora di pranzo. bene. bene. hai fame? hai fame? il migliore. lo spero. abbiate fede. sarò coraggioso. conoscete la strada? mi ricordo la strada. hai una buona memoria. ho un grande cervello. che bella giornata! sono d'accordo. andiamo a fare una passeggiata? è una buona giornata per una passeggiata. che cos'è quella cosa? questa è una macchina. sembra una barca. è una strana barca. che tipo di uomo sei? io sono un uomo stolto. che tipo di uomo sarai? sarò un uomo più anziano. il mondo sta cambiando. tutto cambia. io non cambio. posso vederlo. la vita è bella. la vita è troppo breve. vorrei che fosse più lunga. dormi di meno. prendi la mia mano. ho paura. tieni la mia mano. mi sento meglio ora. mi piace questa parte. sì, è la parte migliore. è così eccitante. tenere la mia mano. io voglio un altro figlio. ne hai tre. ne voglio di più. tre è abbastanza. mi fanno male gli occhi. il sole è forte. è il sale. lava gli occhi. guardi quella donna. quale? lei sta camminando per la strada. aiutala. riesci a trovare un posto? sto cercando. ce n'è uno. buon lavoro. ci vorrà una settimana. è troppo. è il meglio che posso fare. andrò da qualche altra parte. qual è il tuo punto? c'è troppo governo. siete interessante. ecco il mio numero di telefono. che grande gruppo. questo è il problema. ci sono troppe persone. andiamo da qualche altra parte. questa è una buona birra. beviamone qualcun'altra. avete abbastanza soldi? userò la mia carta di credito. che cosa ha detto? il negozio apre alle due in punto. vi aspettiamo. non aspetteremo a lungo. dove dovremmo andare? abbiamo bisogno di prendere l'autobus. c'è una mappa. riesci a vedere la nostra città? quando verrai? controllerò il programma. vuoi guidare? forse. riesci a trovare un taxi? non riesco a vederne uno. chiediamo a qualcuno. questo è troppo impegnativo. sono stanco. è stata una lunga giornata. voglio dormire. potrete dormire presto. puoi chiamarmi domani? naturalmente. aspetto tue notizie. non vedo l'ora di chiamarti. ho comprato una macchina nuova. è la prima? spero che sarà la mia ultima. durerà molto tempo. lei è una grande cantante. ero annoiato. vorrei poter cantare. vorrei che fossimo a casa. possiedo un business. buon per te. non è grande. piccolo è meglio. vai nella direzione opposta. sulla vecchia strada? gira a destra al cartello. al grande albero? quella montagna è alta. è molto grande. grande. dove vivo è diverso. le montagne sono piccole? ho mangiato un pasto abbondante. cosa farai dopo? andrò a dormire. starò sveglio. questo vino è molto giovane. si tratta di una famosa cantina. ho un paio di bottiglie. beviamole tutte. non si può bere in pubblico. è illegale? sì, la polizia verrà. è un peccato. si può aprire la porta? è troppo pesante. lascia che ti aiuti. sei molto gentile. avete latte fresco? ne vuoi un po'? sì, per favore. ecco qui. è libero? dove posso portarla? all'aeroporto, per favore. subito, signore. vuoi venire con me? non posso venire con te. forse domani. per favore, mi chiami domani. di dove sei? vengo dal Canada. questo è un bel paese. il vostro paese è più bello. di dove sei? vengo dall'Austria. quanti anni hai? ho venticinque anni. questa sedia è confortevole. ti stai addormentando? mi addormento velocemente. andiamo a letto. per favore, mi segua. è lontano. un chilometro. arriveremo lì presto. siamo di fretta. siamo disorganizzati. dobbiamo pianificare meglio. la prossima volta. quella macchina è veloce. questa è una macchina da corsa. mi piace il colore. mi piace la velocità. dove si trova? è vicino all'hotel. lo troverai? ci vorranno un paio di minuti. ho dimenticato la protezione solare. ci bruceremo. ci siederemo all'ombra. il problema è stato risolto. sei uno studente? sì, studio affari. questo è interessante. mi piacciono i soldi. la neve è profonda. il sole splende. andiamo a sciare. sarà un grande giorno. sono così felice. sono felice che tu sia felice. mi sto divertendo. sono contento che tu mi sia venuto a visitare. andiamo. voglio rimanere. ci vediamo a casa. a più tardi. restiamo. voglio andarmene. va bene. va bene, andremo. è molto rumoroso. sediamoci. siete stanchi? i piedi mi fanno male. riposiamoci. è molto tranquillo qui. io amo il paese. mi piace di più la città. la città ha un cattivo odore. l'aria è fredda. il vento è forte. le nubi sono scure. sta arrivando una tempesta. ti piace il gelato? mi piace di più una torta. prendiamoli entrambi. questa è una grande idea. la mia famiglia è grande. avete una grande casa? abbiamo una piccola casa. deve essere affollata. si prega di mettere il cappotto nell'armadio. non riesco ad aprire la porta. gira la manopola. si è bloccato. quell'edificio è vecchio. si tratta di un castello. i muri sono spessi. è per la difesa. è sicuro? non sembra solido. cerchiamo di non camminare su di essa. hai paura? quel cane è cattivo. abbaia molto. mi chiedo se morda? non voglio saperlo. è fantastico! non è così bello. penso che sia fantastico. hai cattivo gusto. la mia mano è fredda. permettetemi di stringerla. ora è calda. ho il sangue caldo. lo spettacolo è finito. è stato breve. guardiamone un altro. sì, abbiamo tempo. mi piace ridere. amo sorridere. vi dirò una barzelletta. sto ascoltando. questa è la fine. è stato divertente. grazie per l'ascolto. è stato un piacere.